Le antivirali sono un'arma molto importante nella lotta al covid e tra questi vi è l'antivirale monupiravir di cui se ne è parlato anche durante il congresso ICAR 2022. Noi parliamo con il professor Matteo Bassetti di questo farmaco e soprattutto di come si è organizzato anche a livello territoriale la regione Liguria per la possibile prescrivibilità ai pazienti e ne parliamo proprio durante il congresso. Allora professore dicevo come vi siete organizzati in regione Liguria per ottimizzare anche la prescrizione di questi farmaci e quindi anche collegandovi alla medicina territoriale. Allora a livello di organizzazione abbiamo avuto un rapporto ottimale con la medicina del territorio che è partito già durante la seconda andata a novembre 2020 e siamo stati la regione che ha prescritto più monoclonali per numero di abitanti e devo dire che ci confermiamo anche sugli antivirali orali sempre grazie a questo forte legame tra la medicina del territorio e l'ospedale. Quali sono stati i vostri risultati nei pazienti a cui avete prescritto l'antivirale monopiravir? Degli ottimi risultati abbiamo oggi abbiamo circa 350 pazienti trattati sopra probabilmente rispetto agli studi registrativi quindi ma soprattutto la cosa molto importante è che abbiamo trattato i pazienti molto presto entro due giorni dall'inizio dei sintomi per la maggioranza di loro e questo è il messaggio che voglio dare se si vogliono utilizzare questi farmaci devono essere utilizzati il prima possibile perché prima li usi più funzionano. Durante uno degli ultimi congressi internazionali importanti in ambito infettivologico mi riferisco all'ECMID 2022 sono stati presentati i risultati di un importante studio su questo antivirale che è il move out. Ci commenta questi dati? Move out i dati mi sembrano molto interessanti ancora meglio di questa sotto analisi appena pubblicata su anal of internal medicine dove c'è una riduzione di tre giorni del ricovero quando il paziente viene ricoverato dura tre giorni di meno ed è tantissimo è una riduzione significativa anche delle visite sia di pronto soccorso che territoriali quindi dati che confermano come monopiravir è un'arma preziosa oggi e penso che lo sarà ancora molto di più nel prossimo ottimo inverno. Infine professore secondo lei cosa manca per avere una prescrizione migliore un collegamento migliore anche tra l'infettivologia e la medicina territoriale? Bisogna fare cultura, dobbiamo fare cultura, è compito nostro, è compito delle associazioni, è compito delle società scientifiche. Oggi non credo che la medicina del territorio sia completamente preparata per scrivere questi farmaci, dobbiamo lavorare insieme per far sì che si sentano anche loro più vicini a noi e che in qualche modo ci siano delle mani esperte insieme alle loro che sono sicuramente esperte ma magari meno su questi farmaci e vengano insieme per mano portiamo il paziente a questo tipo di farmaci.